ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodione dedicato a voi ed eccoci qui con una simpaticissima puntatella dedicata ai vostri orologi e a voi che state guardando come al solito ormai il format lo conoscete sapete come funziona in video me li state mandando siamo c'è la cartella di ottobre ancora piena quindi siamo in ritardo solamente di un mese solamente di un mese saranno diciamo una quarantina di video indietro una poca roba rispetto sono stato indietro anche due mesi quindi sto recuperando come vedete in questo periodo sto facendo più video possibile e stiamo recuperando quindi sappiate che se mi inviate i video adesso il gap diminuirà sempre di più ci siamo quasi siamo quasi in pari diciamo mettiamola così noi ci divertiamo a guardare questi video soprattutto perché ci sono orologi nuovi perché non si sa mai cosa ci sarà dopo non si sa mai l'amico cosa presenterà e una volta che l'amico ha finito quello dopo cosa presenterà chi è cosa fa perché esiste è questa la curiosità che ci spinge a guardare questi video me lo dice anche il mio amico Piero che gli piacciono questi video perché non si sa cosa c'è dopo è un punto interrogativo questo ci piace tanto a noi a me e anche alla scimmetta che guarda che trova sempre un certo trova spunto trova gli spunti li trova quando guarda vede briga si mette tutto nel suo piccolo database perché c'è un cervelletto così ma c'è tanto di quello spazio lì dentro mette tutti gli orologi tutti i numeri tutte le referenze pram 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 e poi quando meno te l'aspetti te li sputa fuori stratatapum e te dici ah sì è vero mi piace quello lì capito ma non sai te che lo dici è lei ora detto questo io vi mostro anche l'orologio del giorno che non è una novità è uno degli orologi che sto indossando più spesso il mio nuovissimo per modo di dire Longini Hydroconquest del 2014 che ho preso recentemente con la ghiera rossa il calibro L619 che altri non è che un età 28 92 no bel calibrino però niente da di da strapparsi i capelli ma noi non ci interessano gli orologi da strapparci i capelli noi ci piacciono gli orologi nella loro semplicità cioè un orologio può costare anche 200 euro che te lo metti a voi ho comprato quel longin vintage al mercatino di orologico no cavolo ogni volta che lo indosso e mi sembra di essere un signore quello pagato 350 euro del 73 ma lo guardo me lo riguarda veramente sta proprio bene al polso che tante volte uno dice ma cosa servono tanti guarda qua basta basterebbe questo orologio qua per rendermi contento poi in realtà la scimmietta salta fuori sì però è un vintage non è che puoi portarlo fuori da tutte le parti di ce ne vogliono tanti altri no poi magari metti che si rompe che lo mandi a fare una revisione alla riparazione stai fermo due mesi tre mesi senza orologi cioè è roba da suicidio no quindi è bene avere tanti orologi tantissimi orologi più possibile lo scopo è quello di riempire una piscina una piscina piena di orologi e poi tuffarcisi dentro questo è lo scopo fuoco alle polveri dai la barra spaziatrice più è pronta l'indice che può essere a volte de piuma per schiacciare qua o de fero per farvi la reprimenda però in questo caso la schiacciamo ciao davide sono marco 41 anni ti mando questo video dal salento anche se è trasparirato il mio accento che sono orgogliosamente calabrese è un orologio vintage per il quale oggi ho bestemmiato un po di santi del calendario per questo seco perché ho bestemmiato perché mi si è rotto poco fa ho perso peraltro vedi la scimmietta che l'aveva detto che lei si rompono quelli vintage me l'aveva detto si rompono quelli vintage ora se tu avessi avuto solamente questo orologio saresti stato stato del gatto come si trovi così e devi assolutamente andare a comprare qualcos'altro ma invece avendo tutta una serie di cartucce di scorta se a posto tanti orologini del show servuto e vabbè serrot lo mandiamo a riparare e intanto ci mettiamo qualcos'altro no questa parte qui sul finale però vediamo di recuperarla ma non ho capito non dai al tv credo fosse destinato nel 1970 solo al mercato giapponese ma chiedo ai seghisti e chiedilo a loro per il canale perché le informazioni sui seco sono troppe ed è impossibile conoscerle tutte quadrante favoloso con questo poi scalino che lo impreziosisce secondo me c'è lo scalino bello dopo un vintage ti lascio vedere un seco un po più moderno che questo samurai prospects bello assai dai non dico niente sul calibro perché lo conoscete tutti 4r35 mi piace da morire anche questo e beh prova a dire di unico difetto noto e stranoto e credo anche che tu lo abbia citato questo datario qui tra le 4 e le 5 che è veramente inutile non per la posizione ma per la dimensione sì lo so è inutile nel senso che io non lo vedo io non riesco a leggerlo ora qua così dal video lo vedo dico bello c'è il datario lì ma così dal vivo non lo vedo cioè ora con gli occhiali il datario su questo qua che poi questo qua lo sfondo bianco no il datario è quadrante nero e uno dice però devono farli gli sfondi devono farli dello stesso colore del quadrante in realtà il datario bianco che ha contrasto si legge meglio se non quando fanno come in questo caso qua del seco che ha lo sfondo uguale identico no forse è meglio così vabbè però lo fanno per lasciare libero il perché è una delle specifiche per le nuove certificazioni isola per cui l'indice ore 3 non deve essere tagliato ma deve essere ben visibile allora spostano la data lì tra ore 4 ore 5 per non interferire sugli indici no per non tagliare nessun indice però quel punto lì mi domando ma tanto vale non metterla non mettiamola ci abbiamo un bell'orologio pulito qui forse una lente magnificatrice avrebbe aiutato ma vedete è inutile completamente la data ma l'orologio di per sé grande classico certo ritengo sia veramente un grande orologio e nulla da dire nulla da dire dai continuiamo con i seco ti faccio vedere questo il movimento un 7200 700 spero di generare un po di discussione questo ovviamente un custom ad onor del vero se non ne avessi un altro identico ghiera pepsi io questo non l'avrei mai preso avrei puntato sul sull'originale ma poiché ce l'ho originale che fondello che ha io impazzisco per questi orologi anni 90 kanagawa poiché dicevo ho l'originale mi sono voluto concedere questo scherzo che richiamo un po i vostro scuba l'ho indossato quest'estate devo dire la verità ha riscosso anche tanto successo ora te qua questo qua lo chiami custom però non ci spieghi bene cosa cosa è cambiato cosa ha fatto cosa non ha fatto chi te l'ha venduto perché io sinceramente non so non so di cosa parla c'è è un skx questo sarebbe un skx cos'è non lo so io il quadrante la ghiera con l'omino che fa sul muzzatore non so come è fatto l'originale quindi non so cosa direti certo giallino così con l'omino che si muove ma contento che contenti tutti e caruccio spero che ti piaccia e che non sia vittima di una di un ciofe caro che sta per arrivare me lo do io stesso ecco questo non andrebbe il forno oggi non mi piace si invece ieri si è in primis con me stesso però perché ce l'ho il movimento un miota neanche tanto bello da vedere ma perché ce l'ho lo spiego è per me è importante averci mai perché questo orologio rappresenta la linea di confine che ha rappresentato nella mia vita il primo orologio a movimento meccanico avevo 22 23 anni e fino ad allora avevo compulsivamente comprato orologio al quarzo quindi swatch innumerevoli nautica alle varie altre case che producevano quarzoni come se fossero panini ma ci sta ci sta e poi mi regalarono questo mi aprì un mondo questo movimento vista il fatto che avesse una vita indipendente e propria al movimento meccanico e quindi me ne sono innamorato e da allora è una malattia che non va più via però rimane con me per i motivi che ti ho appena detto è simbolico rappresenta la mia svolta nel mondo dell'orologeria e va benissimo va benissimo è la cioffecata perché lo è però per l'amor del cielo lo scopo di questi orologi qua è quello di avvicinare le persone poi studiare imparare appassionarsi ben vegano cioè è stata una maniera dal cielo mettiamola così ora però se lo compra uno che è un appassionato che già c'è già una collezione un po strutturata no che si butta a comprare quelle robe lì o quelle come gli addisive così a me mi viene da 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 prendere la pesce in faccia no come si può dire conto è se uno si avvicina alla passione e quindi passa per gli roger quarzo questo quell'altro poi gli arriva questo qua andrea belfort va bene va benissimo quindi non fartene un crucio tienilo lì lo tieni pure lì come 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 ci meglio eccolo qua il primo orologio meccanico che mi hanno regalato che poi mi ha aperto il mondo a tutti gli altri va bene svolta che poi mi ha portato subito a comprare questo un rolex explorer 2 1998 il movimento è il 16 570 bellissimo è stato al mio polso per 12 anni consecutivi movimento del 16 570 tutt'oggi lo utilizzo porta i segni delle varie battaglie l'ho utilizzato in moto facendo fuori strada andandoci a pesca l'ho utilizzato veramente veramente un po per tutto oggi penso di dovergli dare nuova vita lo farò revisionare perché è un po graffiato un orologio che credo finirà con me nella tomba lo adoro ma non perché sia un rolex anzi odio gli orologi troppo rappresentativi di cliché vari che conosciamo però veramente mi fa ancora impazzire ancora mi fa emozionare va benissimo essere no contro il discorso dello status simbolo del comprare l'orologio perché ce l'hanno le persone famose ce li hanno gli altri è riconoscibile va benissimo però neppure denigrare cioè io ce ne ho tre di rolex sono fatti benissimo sono veramente orologi di qualità eccellente quindi se uno è appassionato e gli piace avere quegli orologi lì è giusto che se li compri e li tenga poi quello lì 16 750 570 da 40 mm è veramente proprio direi l'archetipo del explorer 2 perfetto quindi una volta che l'hai bello restaurato te lo si è fatto te lo fai tornare come nuovo e te lo godi però non va bene secondo me neppure sminuire dire sì non perché non c'è da trovare giustificazione poi un conto è se uno lo fa solamente per ostentazione c'è i soldoni e non sa dove buttarli si compra tanti rolex tanti odemar piguet tanti patec philippe poi per andare in giro con la ferrari farsi rivedere quella potrebbe essere passione non lo sappiamo bisogna conoscere le persone però sicuramente se uno ha tanti orologi di tipologia diversa e c'è dei rolex c'è dei patec è capito è appassionato cioè gli piacciono gli orologi che piacere gli orologi può anche voler dire piacerti il login idroconquest del 2014 ci piacciono gli orologi poi continua vado velocemente perché te ne voglio far vedere tanti questo è un 6 o 5 sport di ultima generazione certo vista anche se non c'è granché da vedere nel movimento ma è bello ci piace è un orologetto carino estivo che ha fatto la sua bella figura quest'estate non ti nascondo che mi piace davvero tanto bravo dopodiché ti faccio vedere in questo bulova sempre moderno io penso che bulova sia veramente rappresentativo per un collezionista bisognava secondo me avercelo questo a un miota un entry level però ha rappresentato la storia dell'orologeria questo brand è certo e merita anche uno spazietto nei cassetti di noi appassionati è giusto ragionare così secondo a proposito di bulova poi c'è questo qui che è un 36 mm placcato in oro movimento credo in house non ho grandissime informazioni ora metterò anche una foto magari qualcuno lo riconosce perché io onestamente credevo fossero movimenti età fino a una città allora guardiamo un po' unadjusted bulova watch co non lo so io non 22 rubini 23 rubini non lo so non lo so riconoscere mi dispiace il rotore sempre è quello di un miota 8000 però non non è non è c'è quel ponte lì gigante sopra lì dovresti leggere bene sulla platina lì cosa c'è scritto quello con la lentina io oppure fare fare una ricerca per immagini certa data invece non credo sia un età e quindi credo sia un movimento in house questo orologio del 1970 ah beh pensate placato in oro credo che lo chiamassero anche questo come un paio di longin il biscottino biscottino biscottante il cioccolatone marroncino spero si veda biscottino a me ovviamente piace tantissimo è il biscottino il 1970 è il biscottino poi passiamo dal vintage al restyling eh restyling bravo questo è il T-SOP RX Powermatico 80 che tutti voi conoscete certo ce l'ha tutti non so se si è visto sul canale ancora questo quadrante eh io non l'ho visto no quadrante tapisserie tapisserie si chiama così bravo tapisserie ed è gradient blue ha quasi delle sfumature di viola non so se riesco a beccarlo con l'ho visto l'ho visto ci è piaciuto è un onorogio che colpisce al polso per la sua bella figura per la sua bella figura è uno di quegli onorogi che spesso devo andare a rispolverare dal cassetto e anche solo tenerlo in mano vederlo mi piace veramente veramente tanto ma certo un brand che secondo me non ha ancora la giusta consacrazione ma a me fa impazzire questo è un Frederic Costant oh certo che si un'edizione limitata ce ne sono 1800 pezzi oh è bello Frederic Costant allora ti dici che non è in realtà no è tenuto in considerazione ragazzi ci sono brand che non sono tenuti in considerazione ma veramente cioè in confronto a Frederic Costant stanno praticamente non vendono niente sono scomparsi non ne parla nessuno nessuno ha appeal per loro non voglio fare nomi ma insomma ce ne sono tanti che non è che stanno riscuotendo quel successo che non si sa neppure perché sono sul mercato fra un pochino Frederic Costant è una di quelli understatement si suol dire un po' sottovalutati forse sì ma non tenuti in considerazione con i calibri in house che fanno quegli orologi che fanno l'highlife le ore del mondo insomma fa dire costante tenuto in considerazione sono belli orologi non sono non sono a livello di intendo dire come popolarità ecco la parola giusta è popolarità non sono popolari come potrebbero essere Hamilton Longines e tutti questi marchi qua che sono sulla bocca di tutti però fanno orologi come si deve ora a parte questo qua che è tutto biancone poi c'è quella cosa verde lì che sicuramente è dedicata a qualcosa di motoristico perché loro le fanno queste cose è un po' un pugnete in un occhio quel bollino verde lì un pochino più di senso estetico di tatto questo è il numero 881 vedi che c'è la macchina dietro simpatico guarda con questo cinturino bellissimo non so se è un racing perché ha i buchi molto larghi non so come si chiama cicciolina tecnicamente sono una pippa al sugo però mi piace tantissimo è la con diciamo il packaging la confezione ancora più bella c'è una macchinina che è questa verde simil bugatti che è meravigliosa vedi che lo sapevo io è un orologio che adoro ci sta che l'ho anche visto in un'altra colorazione dopodiché ti faccio vedere un altro orologio bello particolare nella mia collezione che è questo grande classico officine panerai illuminor marina ora amici ditemelo voi se ora non sono un grande intenditore di panerai anzi capisco una minchia diciamo la verità è è ammesso lo chiedo proprio con il cuore se io volessi comprare un panerai è ammesso comprarlo automatico e con la data perché mi sembra mi sembra un po' un qualcosa in più rispetto ai soliti panerai che sono di solito a carica manuale senza data è ammesso posso poi rientrare tra gli appassionati tra i possessori certificati se compro un panerai automatico con la data devo dire la verità a me non mi convince tanto soprattutto il fatto della data che anche qui è piccolina non si legge va un po' a rovinare il quadrante secondo me però potrebbe che capitarmi l'occasione potrei anche buttarmi su un automatico con la data posso farlo domanda a Firenze la piazza che voi tutti conoscete sulla destra leggo questa officina panerai è dentro ma incuriosito dal fatto che avevo scoperto pochi giorni prima che il panerai faceva anche il 40 mm e allora sono andato a vederlo questo 40 mi hanno offerto l'aperitivo e ho subito pensato ora gli stecco l'aperitivo e invece sono uscito con questo al polso col conto in banca un po' più scarico e due teli mare panerai che sono sempre graditi e non mi piaceva non mi piaceva e ora invece mi fa impazzire è bello è bello mi fa impazzire un bel orologio ecco qui un altro driver questo è un Hamilton Kaki Navi Scuba automatico ho preferito avere il quarto di lunetta colorato perché come avrai visto prima e poi vedrai negli altri video ho tantissimi altri orologi con la ghiera nera tutta nera quindi ho preferito una variazione sul tema e questo è anche un gran bel orologio un 40 mm un po' spesso però a me piace moltissimo bravo e questo è tutto ora proverò a farti altri video e sperando anche di arricchire la mia collezione con qualche crono che come hai visto manca la collezione perché non mi sono mai piaciuto invece ora mi mi stanno piacendo veramente tanto e chiudo anch'io con l'analogio del giorno scimmiottando il tuo format ecco fatto e questo Blank Pompers Watch non ho ceduto all'Omega Moonwatch Watch ma ho ceduto invece a questo che è un automatico che diciamo scimmiotta il Fifty Phatoms della Blank Pompers ma Blank Pompers lontanamente ciao e love ciao e love quindi mi sembra di aver capito che hai fatto un video con pochi orologi perché per rimanere dentro i tempi che non ci sei rimasto perché sono 10 minuti di video secondo me 10 minuti potete far vedere tantissimi altri orologi solamente che te sei lento come la potosi meti libidi bim pt pa pt p pt pa 10 minuti se quanti ne raccontavi di orologi va bene per questa porzione di simpatici orologi noi andiamo a calcolare un voto un voto simpatico beh il secco iniziale samurai poi andrebbe il forte secco quello mozzato un bello rolexone panerai bulova bulova 7.5 ti do 7.5 in considerazione di tutta questa prima parte poi attenderò anche le altre però mi raccomando cerca di essere un po' più conciso e spigliato perché se no non ci stanno tutti gli orologi poi per quanto riguarda lì il panerai ti sei entrato a concessionario dentro all'aperitivino e poi strisciatina di carta per portartelo via ho capito come funzionano le cose che ti imbambolano se ci andavi da solo invece che con la scimietta uscivi senza orologio invece te sicuramente senza accorgertene così te l'hai portata dentro con te e ti ha fregato e ti ha fregato ora da quello che hai capito anche te come me non ci capisci una minchia di panerai hai scelto quello che ti piaceva di più lì per lì dei 2.40 automatico con la data hai fatto bene alla fine della fiera uno deve andare un po' così cioè a scegliere l'orologio che gli piace di più senza farsi troppe pippe mentali cosa che invece io mi faccio di che calibro c'ha quale calibro bisogna prendere la data ci va automatico va bene ci vuole secondi no però ci vuole il quadrante 6 12 no ci vuole il quadrante con i numeri aperti perché sono chiusi hai capito prima che mi decido io ce ne vuole devo leggere leggere guardare fare brigare anche poi anche poi c'è anche la grandezza 40 42 44 quale sarà quello più adatto quello più carino quello poi anche da spendere un po' meno no cioè stiamo un attimino anche no va bene ci penseremo poi quando raggiungeremo i 100.000 iscritti da 100.000 iscritti mi faccio il regalo voi aspettate il giveaway no a 100.000 iscritti no il regalo ve lo faccio 100.000 panerai dai facciamo così 100.000 iscritti vediamo prossimo ciao Davide sono Francesco dalla provincia di Napoli in realtà questo sarebbe il secondo video che ti mando te lo mando perché perché giusto qualche giorno dopo che hai pubblicato il mio video hai iniziato a dare i voti e sono davvero curioso di che voto sono in grado di buscarmi dalla mia collezioncina di orologi ma che stupida quindi è un gioco partirei subito con questo casetto casetto simpatico che mi fu regalato dalla mia ragazza il giorno del mio diploma nulla di che quarzone digitale però ti dico la verità lo indosso spesso soprattutto se faccio tardi e non ho il tempo materiale per mettermi a regolare un meccanico e quindi niente vado di casetto orologio semplice ma piacente piacente dai simpatico dopodichè c'è il mio seco 5 bellino questo mi piace orologio che adoro molto criticato per il bracciale perché di scarsa qualità eccetera eccetera sì sarà di scarsa qualità ma in questo caso qua è veramente originale con questi mattoncini rettangolari così sbrillucica anche che così da lontano sembra quasi di pregio cioè non è per dire bello questo tipologia di caso 5 questo design qua no di seco 5 con quella con la corona d'ore 3 con le spallette mi piace proprio questo qua mi sa che di quelli da 38.5 mm non vorrei dire una stupidata però di quelli proprio grandi me ne sbatto adoro questo bracciale sarà anche di pessima qualità ma esteticamente mi fa impazzire è bello e poi c'è la forma di questa cassa che trovo davvero pregevole molto molto bello le stesse cose che ho detto io volevi che non lo dicessi e invece te lo dico bravo dopodiché citizen promaster per antonomasia l'entry lever di tutti gli appassionati d'orologgi dipende diver non mi dilungherei più di tanto tutti quanti ne abbiamo avuto uno tutti quanti ne abbiamo uno e pertanto andrei avanti andrei avanti mi soffermerei su questo che già ti ho presentato la volta scorsa ma aggiungerei qualche dettaglio in più giusto per anzitutto mi va di dire questa volta a differenza dell'altra quanto l'ho pagato l'ho pagato 120 euro e perché voglio dirlo voglio dirlo perché perché ci sono tanti appassionati come me che non hanno certe disponibilità economiche e quindi è giusto non fare il passo più lungo della gamba tuttavia con passione e ricerca è possibile trovare dei pezzi molto belli a dei prezzi accessibili e vi dico che ho pagato questo 120 euro ma le condizioni quali erano erano praticamente di un orologio messo benissimo come potete vedere incluso del suo cinturino originale che ho sostituito semplicemente perché la pelle è diventata davvero molto dura comodo da indossare diceva anche Rocco con la fibbia originale logata e con il cartellino ok che riporta seriale dal quale sono riuscito a risalire l'anno di produzione 1962 numero di referenza e il calibro 709 62 detto ciò andrei avanti sembrava un po' troppo moderno per essere il 62 siamo al pezzo forte della mia collezione questo glazing combat sub bravo che monta il suo sellita e devo dire che per il prezzo al quale viene venduto è davvero un orologio meraviglioso certo che lo è ha un bracciale robustissimo che adoro poi vetro zaffero e ovviamente c'è una piccola storia magari la racconto visto che sono abbastanza dentro i tempi giusto qualche giorno dopo averlo ricevuto in regalo praticamente perché me lo avevo fatto regalare per la mia laurea ho fatto questo graffio al supermercato e ogni volta che ci penso mi sale quell'acidità di stomaco che solo mi ha appassionato di orologi possiamo conoscere tuttavia questo è il bello di avere degli orologi l'anedoto era tutto qua che sembrava che dovesse andare in Vietnam a fare la guerra sei andato al supermercato quel carrello hai fatto un graffiettino qua e ti sei messo a piangere questo è l'anedoto va bene dai ora detto questo no e cosa vuoi che sia ma cosa vuoi che sia ma cosa vuoi che sia i graffietti ti capisco soprattutto se un orologio è nuovo di pacca il primo graffietto è quello che non si scorda mai come si suol dire ti mette un po' di ansietta qua ma poi dopo basta cioè si va avanti ci si passa oltre e non ci si pensa più come la macchina nuova la prima volta che gli succede un graffietto con un sassolino che parte da un'altra macchina ti colpisce e poi dopo non ci pensi più perché insomma non lo vedi più nemmeno in teoria quindi vivitele goditelo vai a viaggiare tra i corridoi del supermercato con questi carrelli a fare la vida loca la vida loca però è bello questo orologio qua il glissing combat sub questo qua è quello da 42 mm con inserite sv200 200 metri di impermeabilità e questa è la configurazione che più mi piace una di quelle che più mi piacciono con queste sfere qua bianche così che fanno il contrasto gigantesco con il quadrante lo vedi belle dritte semplici a matita proprio invece altri ce l'hanno con la mercedes vuota questo qua è quello perfetto i pallini i piccolini i tondi a indici piccolissimi questo mi piace tantissimo magari se il glissina avesse fatto una grafica della ghiera un pochino più originale sempre così un po' vista e rivista qualcosa di più originale secondo me sarebbe stato ancora meglio però viva viva il combat zoom ovvero sono dei segnatempo che segnano il tempo non solo attraverso i meccanismi ma anche attraverso tutte le storie che riescono a englobare in questo piccolissimo volume ecco dove e questo ad esempio è una di quelle va beh dai si toglie anche volendo dopo di che ho preso questo timex marlin perché perché l'ho trovato un'offerta sul più grande marketplace che esista e qual è e niente l'ho preso lo adoro ho preso la versione perché solo quella era in offerta col cinturino blu però fortunatamente è dotato di sgancio rapido quindi ho subito messo applicato questo cinturino in gomma con le impunture rosse che vanno a riprendere il subcontatore bravo eccolo qui si vede meglio che riporta l'orario in formato 24 ore e devo dire che adoro questo orologio per la forma della cassa questo è l'effetto che fa e lo indosso davvero molto spesso e molto molto volentieri bravo benissimo e arriviamo all'ultimo pezzo un Hamilton un kaki crono di secondo pulso ben vissuto come puoi vedere l'ho preso insieme al suo bracciale originale eccolo qua va giù 7750 funziona alla grande alla grandissima e indossarlo per me ogni volta è un piacere un piacere davvero tant'è vero che sta diventando praticamente il mio everyday watch lo so sta andando a discapito degli altri però non ci posso fare nulla quando vedo questo mi sento fiero vado in giro bello a testa alta non che alle altre volte non ci andassi però ho un motivo in più per avere la testa alta va bene ok Davide senza sforare inutilmente con il tempo chiudo il video dicendo love and rock love and rock ciao 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 carissimo allora te praticamente sei qua perché vorresti il voto perché vuoi il voto vuoi il voto no guardiamo un pochino facciamo un recap Glissing Combat Sub Timex Hamilton 7.5 7.5 perché diciamo che non è commesso neppure un errore cioè non è che sono orologi che da budget super elevato a parte che il cronografo di Hamilton secondo me non lo so se l'hai preso usato ancora di quelli a buon mercato magari non ci hai speso nemmeno tanto se no costicchiano i cronografi però l'hai preso tutto bianco tutto bianco magari con i contatori a contrasto le sferi a contrasto sarebbe stato più carino però i gusti sono tuoi tutto bianco è quello che indossi più che ti rende orgoglioso che vai in giro a testa alta prendi il carrello della spesa e dentro questo supermercato per il corridoio a testa alta perché c'è l'hai detto un cronografo e quindi siamo tutti contenti però c'è tutti i belli orologi e si sente anche tutta la passione che hai dai non è che possiamo negare negare la tua ecco quel che ti sono lì che ti dici che è il 62 che a me a vederlo così avrei detto che è più degli anni 80 60 70 62 è veramente siamo poco dopo gli anni 50 1962 una grafica così sei sicuro che quel cartellino lì è il suo sei sicuro che il calibro ha fatto le verifiche la referenza che corrisponde seriale calibro tutto ma 6.162 ci devo credere io non è che io ho un dubbietto lasciamelo lasciamelo esporre detto questo niente dai 7.5 tutti i belli orologi simpatici e belli prossimo video ciao davide ciao viviana da torino viviana e vorrei presentarti la collezione mia e di alessandro allora partiamo subito con un orologio che non ha bisogno di presentazioni è un Seiko SKX009 bello è un classico intramontabile della casa nipponica di solito Alessandro lo usa al mare e ovviamente prima di partire fa un check guarnizioni e impermeabilità bravo bravo Alessandro molto bello bravo molto bello poi un altro orologio di casa Seiko referenza Sarb 017 anche detto Alpinist e prodotto per il solo mercato giapponese e si differenzia dal nuovo per la mancanza dell'AXP Prospex sul quadrante e per il movimento leggermente differente vabbè trovo che questo orologio al sole esprima tutta la sua bellezza perché questo verde cangiante qui lo fa sembrare uno smeraldo ah smeraldo non mi piace tanto il cinturino che gli ha abbinato però va bene ha scelto lui è un po' acceso un po' acceso ora andiamo avanti con uno dei due miei orologi signorina questo qua Rolex Date 15200 un classico della casa coronata e cassa da 34 mm quindi veste perfetto sul mio polso quadrante argentè che quindi esprime eleganza brava come te io sono innamorata di questo orologio e riesco a indossarlo con spensieratezza spensieratezza eh che nonostante sia riconoscibile grazie alle sue dimensioni comunque non eccessive passa inosservato quindi va bene perfetto buono oh là là che bello poi questo qua è l'orologio che ho regalato io l'anno scorso ad Alessandro a Natale bello sono brava e non è solito in acciaio come puoi ben vedere ma in bronzo che bellino che è in bronzo lo distingue lo rende un po' più particolare che bello inizialmente era un po' più brillante adesso ho fatto questa patina qui che che poi viene abbinata a questo cinturino in cuoio invecchiato e quindi lo rende un po' vintage e comunque perfetto beh perfetto sì guarda come è bello il bronzo quando fa la patina io devo dire i miei due orologi in bronzo non sono mai peggiorati oltre un certo livello a volte si vedono immagini su internet che diventano verdi quasi marci secondo me lì sono fatti di proposito o lasciati in acqua salata per lungo tempo perché i miei raggiungono una patina e oltre quella non ci va anzi ti dico di più quando vado al mare che ci faccio il bagno che poi faccio anche la doccia dopo in acqua dolce si perdono un po' di patina cioè occorre un po' dopo riniziare si puliscono capito e questo qua sta benissimo così guarda qua con questa con questa abbronzatura con questa abbronzatura e questo cinturino in cuoio esprime un po' quel calore autunnale di un orologio da indossare nei momenti più spensierati di questa stagione nella quale stiamo vivendo molto bello poi questo invece è il secondo dei miei due orologi bello da Cartier Tank WSTA 0052 questo qua me l'ha regalato Alessandro per il mio compleanno l'anno scorso bravo Alessandro ed è il mio preferito elegantissimo super raffinato lo uso lo uso sia per occasioni formali sia per occasioni formali quindi perfetto certo e abbiamo comprato anche il il cinturino rosso in pelle rosso Cartier però lo alterniamo al bracciale così a volte può usarlo anche lui mmm è stupendo bellissimo ah certo poi per ultimo ti lascio il preferito di Alessandro e qua spera di ricevere un toppino lo fai contento glielo ho dato altrimenti ci rimarrerebbe male glielo ho dato e questo è un IVC Portofino Cronograph e vabbè Alessandro ha un debole per questa Maison infatti il suo prossimo acquisto sarà il classico Crono Pilot da 43 mm di cui non ricordo la referenza però spero tu abbia capito sì ho capito capito e vabbè questo qua io lo trovo molto molto elegante cinturino nell'alligatore e vabbè il quadrante nero però alcuni riflessi come puoi vedere sembra blu scuro tendente a blu scuro e molto versatile soprattutto anche utile grazie alla presenza del giorno e della data sul quadrante molto bello molto bello fa il suo fa il suo e niente questa è la nostra piccola raccolta spero ti sia piaciuta Davide certo un saluto a tutti gli amici del canale continua così love love poi dietro da una ragazza mi si scompisce a tutto lo stomaco brava brava non mi ricordo come ti chiami abbiamo capito che lui si chiama Alessandro e la cosa ci arreca un certo dolore ma te non mi ricordo come ti chiami va bene la tua connessione diamo un 9 se no merita il 9 no io dire di sì ragazzi siamo equilibrati siamo imparziali un bel 9 perché poi raccontato con questa suave voce l'orologio raggiunge il suo apice ora detto questo veramente tutti i orologini tranne che no tranne che volevo sottolineare il fatto che l'IVC hai detto che Alessandro è abbastanza estimatore del marchio IVC e c'è questo cronografo qua se ne vuole prendere un altro la particolarità delle persone di come possono essere affezionate ad un marchio piuttosto che ad un altro io ad esempio ci sono marchi ai quali non sono affezionato ai quali quando penso ovviamente sapendo no tutto stima rispetto qualità tutto quello che volete però non mi è ancora venuto in mente di prendere un IVC di comprare un IVC di puntare a un IVC no è uno di quei marchi che per me lascio il secondo piano in piano come ne lascio altri e c'è una marea Tudor ad esempio però mai dire mai perché ci lasciavo anche Panerai indietro ora invece lo sto rivalutando e poi magari mi butto sono più affezionato ad Omega a Longines oppure ad altri marchi come a Villervetta ultimamente mi sto affezionando mi piacciono tutta l'altra fascia di mercato e per l'amore del cielo però ognuno anche nei microbrand ci sono persone che sono molto fissate con Baltic con con altri microbrand magari mentre io sono più fissato con Orologica Ramai cioè ognuno ha un po' le sue che non sono non vi sono dietro delle motivazioni tecniche o particolari semplicemente una questione di cuore di sentimento di come dove può nascere la passione per Omega o per Longines non so è così mi piacciono quegli orologi lì mi piace il marchio mi piace tutto quello che c'è dietro e propendo per loro e magari lasciano dietro questi WC qua mentre te per contro sei appassionato di WC e fai anche bene poi vedrai che un giorno ci arrivano anch'io mi sveglio anch'io tanto ci arrivano sempre prima gli altri me ne sono reso conto comunque dai una bella collezioncina belle mani belle unghie siamo stati contenti di averla vista mandaci altri video magari senza nominare sempre Alessandro che insomma abbiamo capito che c'è però lasciamo anche un po' da parte parliamo di noi due più che altro boh ragazzi io ho detto tutto oggi tre video di più non se ne poteva fare una puntata un po' così corta non so nemmeno se viene corta veramente però a livello di numero di video è corta tanto ne sto facendo uno al giorno figuriamoci se una puntatina corta non ci sta ci stanno boh io vi ringrazio e vi ricordo gli appuntamenti fisici come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao